Io ho i suoi dati che abbiamo già messi nella memoria, quindi possiamo fare l'esame che io ve li spiegherò rapidamente. Intanto dovrà tenere in mano, così questo, poi le spiego, dovrà mettere, metterlo in bocca stringendo bene la bocca intorno. Le dovrò tappare il naso in modo che l'aria passi solo da una parte, mentre le faccia dei respiri tranquilli. Nel corso di questi respiri tranquilli, più o meno al terzo o quarto respiro, io le dirò continui ed ispiri al massimo, lei dovrà riempire tutti i polmoni. Le dirò si fermi un istante e subito dopo soffi fuori con tutta la forza come se dovessi spegnere tante candele. Ispiri, 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 trattenga un istante, soffi fuori con tutta la forza, soffi, 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 continui a soffiare fino a che non ce la fa, continui, 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 continui. Grazie 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 Grazie